bene pronti siamo in diretta siamo in diretta se facciamo l'incidente super super assolutamente no oggi non ci sono e allora c'è il cambio questa parte uguale a quella prima ma adesso vedrai dopo si arriva alla parte del si chiama del direttilineo coliseo quadrato bellissimo anche molto difficile secondo me la partenza sarà rischiosa adesso te la faccio vedere perché diciamo che siamo qui si sale ecco c'è tutta la salita e poi si arriva alla partenza ma poi prima quasi mi sbaglio qui avanti beh ottimo perché non l'avevo mai fatto qui si mettono le macchine per la partenza che bellissimo poi è questa parte qua qui incendia questa è la partenza qui è un salto e poi qui io non capivo dove andare invece si deve andare a sinistra ma guarda che piccolo questo corner tutte le macchine insieme qui sarà divertente sarà molto divertente molto poi vai qui a sinistra guarda che vista hai spettacolare la vista qui poi tutto qui è nuovo l'asfalto questa parte è super adoro questi questi viri molto tecnico questa è la parte nuova che non c'era l'anno scorso qui c'è una chicane molto bella molto difficile c'è un muro bisogna fare attenzione c'è un muro qua poi vai qua a destra e tutta questa parte nuova anche qui doveva iniziato invece si è lì a destra qui e questo bellissimo questo lo chiamano la derby marchioni si quasi gira intorno all'ubelisco quasi gira intorno che bellissimo e così l'ultimo corner e anche ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ce l'abbiamo fatta adesso saresti anche pronto a correre davvero eh sì sono pronto allenato grazie ciao piacere per noi aspetta che adesso qualcuno mi dovrà tirare fuori perché siamo un po' incastrati salve ok grazie senza di te sarei persa grazie aspettate che uscire fuori è molto complicato ve lo devo dire ciao ciao ok dove devo andare non lo so di qua e forse a un certo punto dovrei anche interrompere la diretta chi può sapere io dovrò togliere il casco facciamo un selfie durante la diretta durante la diretta grazie ottimo lavoro ci proviamo ok a questo punto io salve io sento le voci ormai eh come si spegne scusate fine allora vi saluto al momento la diretta è finita le auto adesso escono dalla pista e ci si prepara per la gara a tra poco io ultima